Ben ritrovati su Ad Maiora Vertite. Anche quest'anno è cominciata tutta la discussione i Lupercalia sono il San Valentino dei Romani. Allora ho deciso di fare questo video su Lupercalia per cercare di parlarne una volta per tutte e renderci conto insieme che non è propriamente così. Siamo nel mese di febbraio, sulla descrizione nel dettaglio di questo mese, ne abbiamo parlato in un nostro articolo sul nostro sito, in ogni caso era un mese dedicato alle purificazioni durante il quale oltre alla festa dei Lupercalia c'erano anche varie feste come il Parentalia durante i quali si andavano a visitare gli antenati defunti. Ma i Lupercalia in che cosa consistevano ed erano veramente la festa degli innamorati? Adesso lo vediamo. Cominciamo col dire che i Lupercalia sono una delle feste più arcaiche e antiche che si ricordino nella religione romana, forse sono addirittura precedenti alla fondazione di Roma. In ogni caso sono certamente uno degli ultimi riti pagani che sopravvivono anche alla cristianizzazione e in questo c'è qualcosa di veramente impressionante perché ancora nel Medioevo c'è riferimento a questi festeggiamenti e per tutta la tardo antichità i cristiani nonostante fossero convertiti partecipavano al festeggiamento dei Lupercalia. I Lupercalia sono presenti citati anche nei Fasti Anziates Maiores che sono questo calendario epigrafico che è stato ritrovato e che è l'unico esempio di calendario repubblicano, quindi l'unisolare, il cosiddetto calendario di Numa, che troviamo. Pensate che i Lupercalia sono una festa talmente tanto antica che gli archeologi nel ritrovare sotto al lapis niger resti di sacrifici di cane e capri, le hanno messi in connessione proprio con il rito dei Lupercalia. Nel calendario solare di Cesare la festa viene fissata al 15 di febbraio, cioè due giorni dopo alle Leidi. Il mito propone numerose varianti sull'origine di questa festività e alcune l'attribuiscono a Romolo a Remo, altre invece lo riferiscono a altri mitici re precedenti. Comunque insomma l'antichità di questa festa è riportata anche dal mito. Il termine Lupercalia è strettamente collegato ovviamente col termine Luperco, cioè quei sodali, perché quella dei Lupercalia è una sodalitas, dicevo prende il nome da questo... è strettamente connesso al nome di questi sacerdoti che avevano come unica funzione proprio quella di compiere questo rito ogni anno. L'interpretazione etimologica di questo termine è dubbia e discussa. Secondo alcuni autori latini il termine deriverebbe da lupus parcere in riferimento alla misericordia avuta dalla lupa nei confronti di Romolo e Remo. Secondo altri invece verrebbe da lupum arcere che significa scacciare via il lupo in funzione del ruolo che aveva Luperco nella fauno Luperco nella appunto protezione delle greggi, oppure da Luere in riferimento al sacrificio della capra che viene fatto durante questo rito, o ancora dalla grotta del Lupercale che è appunto il luogo dove la lupa portò Romolo e Remo, scusate, nei pressi della quale la lupa allattò Romolo e Remo, e infine la proposta ovidiana che però è certamente da rifiutare che lo fa derivare dal nome di un monte dell'Arcadia e però è chiaro che non può essere così. Gli autori moderni anche loro sono dibattono su quale sia l'origine etimologica di questo termine ma è stato riscontrato un paragone che si può fare con Noverca che avrebbe la stessa costruzione di Lupercal, però più di così la questione appunto è ancora discussa. Quello dei Luperci è come già vi ho detto non un sacerdozio bensì una sodalitas e era diviso in due gruppi i Fabi e i Quintili che corrispondevano rispettivamente a Remo e a Romolo, cioè erano i due gruppi in cui si era diviso il popolo dei contadini che abitavano la zona di Roma tra Romolo e Remo, appunto tra i Fabi e i Quintili. Remo e Romolo, i Fabi, cioè i Fabi con Remo e i Quintili con Romolo, a cui Cesare, per rimanere umile, aggiunse anche quello dei Giuli. Il rito era qualcosa di abbastanza complesso. Tutto iniziava nella grotta del Lupercale che era questa grotta ai piedi del Palatino di cui si ipotizza sia stata trovata l'esatta ubicazione. Provo a mettervi un'immagine qui e in questa grotta sgorgava una fonte e tutto intorno vi era un bosco che era un bosco sacro a Luperco, appunto. I Luperci si radunavano in questo luogo e per prima cosa facevano accedere alla Sodalitas due giovani. Molto probabilmente questo era un rito di passaggio dalla giovinezza all'adolescenza e prevedeva che questi giovani, dopo che era stato fatto il sacrificio di una capra, vi è un rito di passaggio che è stato interpretato come un rito di passaggio dall'infanzia all'età all'adolescenza, in cui questi due giovani patrizi, dopo aver sacrificato un cane e una capra, con il afauno, con il coltello ancora insanguinato, alcuni Luperci gli bagnano la fronte. Dopodiché passano degli altri e con un panno imbevuto nel latte la detergono. A questo punto i giovani devono ridere. Questo era il rito. Dopodiché si andava nella grotta e qui si faceva un banchetto ricco di vino. Sulla quantità di vino che questi bevevano è sottolineata dalle fonti, ad esempio viene indicato nel famoso caso di Marcantonio che quando andò a portare la corona ai piedi di Giulio Cesare cercando di spingerla a incoronarsi, il re era completamente ubriaco. Terminata questa prima fase del rito, con la capra si fanno delle fruste, delle strisce di pelle con cui costruire delle fruste che si chiamano Amiculus Iunonis, cioè l'amico di Giunone, e a quel punto si procede ad un ricco banchetto tra i Luperci all'interno di questa grotta. Terminato il banchetto i Luperci prendono e cominciano a correre in modo forsennato in un percorso che gira intorno al palatino, colpendo con la loro frusta il terreno e le donne che esponevano le mani e la schiena se volevano rimanere incinte. Va detto che ci sono altri dettagli di questo rito che però non sappiamo esattamente come fossero strutturati. Allora, le fonti tarde ci parlano di questi Luperci che indossano una maschera oppure che erano coperti di fango e che indossavano anche pelli di capra. Ci dicono anche che una parte dei Luperci portavano del sale caldo con cui purificare gli stessi Luperci, ma questa purificazione non sappiamo quando avvenisse. Inoltre a tutto il rito presenziava il flamen di Alis, cioè il flamine di Giove, il che è strano perché questo flamine aveva una marea di prescrizioni rituali che doveva rispettare, tra le quali non poteva nemmeno nominare le capre. Per cui diventa assolutamente strano che lui presenzi ad un rito dove ci sono questi vestiti di pelle di capra che frustano con frustini di capra e assiste al sacrificio della capra. Ci sono poi alcuni altri dettagli di questo rito che sembrerebbero andare in contrasto con i precedenti in cui specificano che questi Luperci erano coperti d'olio o portavano corone di fiori. Insomma evidentemente questo rito deve aver subito comunque un'evoluzione lunga la sua storia, per cui comprendere quale fosse la forma originaria è davvero difficile. Sulla direzione intrapresa dai Luperci anche questo non lo sappiamo. Si può ipotizzare che fosse o in senso anti-orario o in senso orario, oppure che i due gruppi seguissero due direzioni diverse, non ne abbiamo idea. Ma a che cosa serviva questo rito? Beh, secondo le fonti è un rito di purificazione. Il sale caldo che veniva portato si chiamava februm perché appunto februare significa purificare e tutto ciò che è legato alla purificazione è connesso a questo termine. Da qui anche febbraio e la dea februa. Addirittura questo giorno prese anche il nome non ufficiale di die februato. Ora cerchiamo di capire un po' meglio come i motivi che c'erano dietro a questo rito perché appunto generalmente si tende a fare un'indagine superficiale per cui si dice ah i riti romani venivano fatti così per abitudine e tradizione non avevano nessun significato ed ecco perché un rito come Lupercalia può essere identificato con la festa di San Valentino perché tanto di fondo non hanno nessun significato è solamente una questione di modi di fare quasi che fosse una superstizione. Assolutamente no. Allora cominciamo proprio dall'amiculum Iononis quella frusta che i Luperci portavano con sé che avevano fatto con le pelli di capre. Allora che cosa c'entra Giunone? Beh Giunone non è completamente estranea alle capre. Intanto ricordiamoci che esiste un appellativo di Giunone che è Iuno sospita mater reghina che è una divinità latina una variante latina di Giunone che la vedeva appunto vestita armata potremmo dire di pelli di capra con uno scudo bilobato simile agli ancili e la lancia. Per cui è una Giunone in un aspetto guerriero. Poi non ci dobbiamo dimenticare anche le nonne caprotine. Questa festa che appunto era strettamente legata alle donne e appunto già nel nome vi è questo aspetto del capro che si ricollega anche al caprificus una pianta che aveva degli aspetti connessi a questa festa ma magari farò un video sulle nonne caprotine. E quindi insomma Giunone si vede che non è strana alle capre. Un altro aspetto che spiega la presenza di Giunone all'interno di questa festività è legato a uno dei miti eziologici sulla sua nascita. Dopo il rato delle Sabine accadde che queste donne Sabine non rimanevano incinta. Romolo naturalmente non era proprio contento di questa cosa perché diceva come queste cavolo di donne che dovevano portare il popolo romano da crescersi numericamente invece mi hanno portato solamente guerra e neanche un figlio. Il ratto delle Sabine era stato suggerito a Romolo dal dio Conso, Conso Consilio, ma ciò nonostante appunto le cose non erano andate proprio come Romolo volesse. Allora andò a pregare nel bosco sacro a Giunone e da lì venne fuori una voce che dava un risponso abbastanza inquietante e che diceva un sacro caprone penetri le donne d'Italia. Questa cosa gettò nello sconforto prima di tutto le donne Sabine ormai romane ma anche i mariti e tutti. Perciò si interrogò un indovino etrusco per spiegare qual era questo significato sul perché i romani interrogano sempre gli indovini etruschi soprattutto per l'epoca più antica ne abbiamo già parlato varie volte gli etruschi venivano riconosciuti come il popolo più esperto del sacro in tutto il mondo italico. L'agro etrusco risolse l'enigma sacrificando un capro creando delle strisce partendo dalla pelle di questo capro e colpendo le donne sulle mani e sulla schiena. Nove mesi dopo Giunone Lucina non sapeva più dove sbattere la testa. Ora vediamo che appunto Giunone compare come sospita non solo nella mitologia romana ma viene festeggiata al primo di febbraio, ricompare sotto forma di Amiculus Iononis alla festa di Lupercalia e quindi insomma possiamo dire che questa festa da un certo punto di vista è sotto la protezione di Giunone. Questo forse può spiegare la presenza del flama in Dialis però non mi sentirei di darlo per certo essendo che Giunone non ha non ha un proprio flamine e anche qui non va vista come ho letto in alcune parti ai romani crudeli maschilisti patriarchi frustavano le donne se non rimanevano incinte. No non è nulla di tutto questo è proprio questo collegamento che c'è fra Giunone le capre e la purificazione che vi spiegherò subito proprio perché Giunone ha una sua funzione nell'incarnare il ruolo della donna nella società antica che sembra brutto da dire ma il ruolo della donna era fondamentalmente quello di fare figli sposarsi e fare figli così come il ruolo dell'uomo era quello di zappare la terra e menare le mani e andare in guerra. Erano proprio due ruoli codificati e che noi vediamo presenti anche nel susseguirsi delle festività mensili lungo il calendario. Dicevo come si collega alla purificazione? Beh la capra è spesso presente nei riti di purificazione in quanto animale terrestre e adesso non mi ricordo c'era anche un rito magico che prevedeva di purificarsi sfregandosi addosso una capra. Ecco perché risulta essere un rito di purificazione. Ma non è finita qui la questione non è così semplice. Che cos'è il luperco? Il luperco rappresenta il giovane adolescente per l'appunto il rito di passaggio di cui vi ho detto prima che quindi incarna la forza maschile, la forza virile, proprio la capacità generativa al massimo della sua potenza che appunto avviene in età adolescenziale come tutti noi sappiamo, che deve andare a purificare le donne e la terra al fine di fare che cosa? Al fine di renderla fertile. Per cui qual è il messaggio? Il potere del luperco della sua adolescenza, della sua virilità, viene purificato per tramite di questa frusta che è in pelle di capra. Appunto come abbiamo detto la capra viene utilizzata nei riti di purificazione. Forse il sale caldo che vi ho detto prima serve a purificare i luperci prima che cominci la corsa e quindi questa corsa sfrenata che rappresenta proprio la virilità selvaggia potente va senza alcun limite, senza alcuna forma di repressione o sovrapposizione culturale va e colpisce la terra trasmettendo il potere della fertilità in essa e sulle donne per fare altrettanto. Perché colpiscano le mani e il dorso? Beh questa è una bella domanda, non sono riuscito a reperire una risposta. Il dorso probabilmente perché è collegato alla gravidanza, le mani forse affinché agiscano in quella direzione non lo so, non ve lo so dire. Comunque le donne che si esponevano a, che volevano rimanere incite si esponevano volontariamente a essere colpite durante questo rito. Non ne abbiamo mai parlato in un video unico, forse sarebbe il caso di farlo un giorno. Comunque vi ho accennato che alcuni mesi rappresentano la ritualizzazione nel loro complesso delle fasi dell'età. Per cui a gennaio c'è la nascita diciamo del mondo l'infanzia comune più o meno a tutti. A febbraio abbiamo l'adolescenza maschile, a marzo abbiamo l'età adulta maschile rappresentata dal servizio militare ritualizzato nei sali, ad aprile abbiamo, passatemi il termine, l'adolescenza femminile, per cui tutto quel potere generativo però femminile, infatti è sotto l'insegna di venere. A maggio ci sono i maiores, per cui è l'anzianità degli uomini. E a giugno c'è di nuovo giulone con, è il mese, noi abbiamo definito nel nostro articolo, il mese delle giovani, perché tutto quanto ruota intorno al matrimonio femminile, dal punto di vista femminile. Per cui in queste fasi qui vi è un parallelo però nelle fasi anche di crescita di Giove, per cui Giove si presenta a gennaio ancora bambino o malato a seconda delle interpretazioni di quel Vediovis, comincia la sua crescita attraverso febbraio durante la quale c'è la purificazione dalla generazione dell'universo e a marzo Giove riprende il suo ruolo di rex deorum hominunque e comincia l'anno sacro. Ma di quest'ultima parte ne parleremo in un video sul calendario sul capodanno romano a marzo. Per cui in questo passaggio vedete che vi è anche un'evoluzione nel contesto della ritualità. E questo forse spiega il fatto che Marco Antonio sia andato a portare la corona da re a Giulio Cesare proprio nel giorno dei Lupercalia e non in un altro giorno qualsiasi, perché è in quel momento che si sta ricostruendo il potere regale. Ma questa qui è un'interpretazione, non è esplicitata in nessuna fonte e non sappiamo se poi questi Lupercalia avessero effettivamente un valore anche legato alla regalità e soprattutto in che termini fosse legato alla regalità. Bene, spero che anche questo video sia stato interessante. Io vi invito a farmi tutte le domande che volete. Adesso andiamo al suggerimento bibliografico di oggi che è questo. La religione romana di Gianluca De Sanctis, edito Carroccio Editore. Questo qui è un libello molto interessante in cui c'è un breviario sulla spiegazione di che cos'è la religione romana, tutta una serie di termini tecnici, ma poi anche un quadro su alcuni sacerdozi. Insomma, è uno di quei libri introduttivi sulla religione romana che secondo me vale la pena di essere letto e anche perché è abbastanza facile da leggere. Sono interessanti anche alcune interpretazioni che dà, per cui io sì, ve lo consiglio. Non c'è molto da dire, essendo che spazia attraverso vari argomenti, dagli dèi, i sacerdoti, i luoghi, i culti e che cos'è la religione romana. Per cui uno dei grandi domandoni che ci facciamo sempre anche noi e sulla base del quale nascono spesso i fraintendimenti e le discussioni. Ok, spero che non ci sia troppo riflesso, va bene, ok, perfetto. Bene, io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine, ricordatevi di condividerlo con i vostri amici o non lo vedranno mai. Basta, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Malete Optime, in pace da Aurum.